ragazzuoli ciao a tutti ciao a tutti e questo qui è un tentativo questo qui è un tentativo infatti se ci siete battete un colpo perché insomma sono riuscito a settare OBS quindi potrebbe essere una bella roba in realtà forse sono riuscito a settare OBS vedo che qui va quindi nel senso tanta tanta roba sono riuscito a settare OBS quindi finalmente possiamo anche magari condividere lo schermo posso condividere lo schermo con voi e farvi vedere altre robe mi sono preparato ragazzi mi sono preparato per fare una stream diciamo un pochino più seria per esempio mi basta fare così e vedete oggi ragazzi si inizia a fare sul serio si inizia a fare sul serio sono veramente felice e così si vede un pochino meglio è più bello è più bello diciamo così che voto darei a Chiesa? Beh oggi Chiesa ragazzi si merita un bel voto e cazzo è stato protagonista in tutti i tre i gol bene o male oggi tanta tanta roba beh la Juve al secondo tempo c'è ancora tanto da fare migliorare e crescere sì assolutamente c'è tanto da fare migliorare e crescere ma lo sapevamo ecco quello a prescindere dal risultato della partita di stasera quindi onestamente tanta tanta roba anche perché insomma ci avevano detto insomma non portiamo Ronaldo per vincere contro la Dinamo Kiev perché 2.7 milioni fanno comodo e minchia almeno ce l'abbiamo fatta a momenti credevo tu avessi la felpa della Dinamo ma ho visto la scritta sì bella eh questa qui bella felpa storica fighissima dopo questa prestazione come finirà col Torino? Eh non lo so perché già col Torino per esempio vedremo intanto Di Baleno Morata ecco poi insomma ogni partita è a sé e quindi non si sa mai che cosa poi succederà però effettivamente avete fatto bene a chiedermi di invitare qualcuno perché potrei chiedere a Lellone potrei chiedere a Lellone che se vuole venire a fare due chiacchiere può venire a fare due chiacchiere adesso tutti possono venire adesso sono tutti ospiti sono tutti benvenuti adesso che mi sono sistemato sono tutti benvenuti quindi diciamo che va bene va bene così adesso tutti sono di casa qui vedete eh a me basta far poco adesso poi metto non vi preoccupate che si riesce a sistemare tutto sì Lellone col Pogobbo secondo me eh sarà la svolta in positivo per Paolo col Toro speriamo porca miseria speriamo come visto la linea a tre difensiva può essere quella titolare? Eh no non penso non penso perché oggi giustamente ha voluto dar spazio cioè ha voluto far riposare sia Quadrado che Danilo quindi onestamente non penso però la coppia De Miral ehm De Ligt forse sì riesce a chiedere a Romeo eh di De Miral se sa qualcosa penso che sia ancora abbastanza presto in realtà eh la Juventus il giorno dopo a grandi linee ti dice che cos'è anche perché magari a caldo non si riesce non si riesce ad avere un'idea comunque tra poco Lellone viene tra poco Lellone viene quindi tra poco ci sarà Lellone buoni rumeni in difesa sì Dragusin non è entrato male poi ovviamente è entrato anche in un contesto di partita abbastanza agevole diciamo così però è vero non è entrato male ma guarda di lui se ne parla bene da un pochino di tempo in realtà quindi mi fa enormemente piacere poi speriamo anche perché insomma vedendo quella che è la situazione Chiellini è molto probabile che prima o poi cioè che Dragusin possa diventare effettivamente un un elemento a tutti gli effetti della prima squadra sul quale magari anche fare un certo tipo di affidamento ovviamente in ottica di riserva quantomeno all'inizio sì non è entrato male poi magari non lo so vedremo nelle prossime partite se avrà ulteriore spazio magari contro il Toro piuttosto che contro il Genoa secondo te perché Di Bala non lo fa giocare da trequartista beh bisognerebbe chiederlo a Pirlo più che altro anche bella convincente prova di Berna sì non non mi pare sia entrato male anzi anzi assolutamente è entrato molto molto bene con Dragusin e Delict 39 anni in due eh sì Dragusin del 2002 18 anni e Delict 21 del 99 inizia ad essere vecchio anch'io ragazzi sentendo l'età di questi qui inizia ad essere vecchio anch'io 98 De Miral tra l'altro sul secondo gol di Morata era in fuorigioco vabbè di la verità se l'arbitro non ha dato fuorigioco che verità ti devo dare io il fuorigioco guardate è l'unica cosa certa in epoca VAR se l'ha dato buono evidentemente non lo era cosa ti devo dire non lo so poi magari la signora arbitro ha voluto strizzare un occhio al sistema e non l'ha voluto da rugare però guardate il fuorigioco è l'unica cosa certa quindi sono tranquillo secondo Di Bala verrà recuperato secondo te cazzo lo spero lo spero vivamente quale ti sembra il centrocampo ideale per la Juve non ne idea ovviamente con quelli che abbiamo sì non ne idea perché ogni volta che vedo McKennie io mi innamoro sembra però che Arthur e Rabiot possano essere gli indiziati principali a fare i titolari non ne ho veramente idea non ne ho veramente idea la mafia Juve sì perfetto lei che tanto conosciamo e tanto ammiriamo speriamo anche in Europa perché altrimenti romani ovviamente la serie degli anti juventini sì devo ancora cercare tutti i commenti se voi ne avete qualcuno mandatemelo pure su instagram perché altrimenti farò molta fatica però sì però sì come visto Ramsey non benissimo a dire la verità sento odore di Bayern nei sorteggi dai aspettiamo 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 il 10 mi sembra il 9 o il 10 no il 9 non sicuro il 10 o l'11 ecco Kulu mi sembra più addormentato che sveglio sì Kuluseski non riesci mai a capire se entri in campo con voglia a volte sembra proprio che piuttosto guarda che vorrebbe stare a casa poi magari due secondi dopo ti fa una giocata meravigliosa poi te ne fa altre tre di merda cioè veramente non riesci a capirlo Kuluseski non sai mai che puoi prendere con lui quindi boh oggi entra di merda magari col derby ti fa una partita fenomenale è strano Kuluseski è molto molto strano visto che a te non mi è piaciuto Chiesa cosa ne pensi di lui in questa stagione? per me sta facendo benissimo è partito bene oggi ha fatto una partita bellissima è stato protagonista in tutti e tre i gol fondamentalmente oggi grande partita Chiesa destra ha fatto molto 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 bene oggi e speriamo possa continuare così ci mancherebbe ovvio io spero sempre che possa fare il meglio possibile perché di conseguenza è presumibile il fatto che poi vada bene anche la Juve quindi spero sempre che possa far benissimo il primo arbitro donna della storia della Champions sì la dovevamo comprare per forza è ovvio quello è vero però sì tra l'altro primo arbitro donna che non ha arbitrato neanche male per nulla poi non lo so magari erano anche un pochino in soggezione no? non protestavano mai anche in attesa della conferma del secondo gol di solito vanno tutti addosso all'arbitro tutti distanti è stato alla fine è stato anche molto autorevole nessuno le ha mai detto nulla nessuno protestava figo poi tra l'altro punto ha arbitrato anche bene nel senso poi è una che ha arbitrato una supercoppa europea quest'anno ha arbitrato un paio di partite un'Europa League cioè non è la prima cogliona di turno però tra l'altro anche con un certo tipo di autorevolezza l'ha fatto quindi tanta tanta roba mi è piaciuta molto onestamente all'Arthur attuale preferivo Pjanic non capisco se non fa lanci perché Piero gli chiede di giocare palla a terra oppure non si sente lui non se la sente lui non lo comprendo ma guarda non che l'ultimo Pjanic mettesse i brividi quindi diciamo va bene così arriva Lellone sì non so tra quanto però ha detto che deve finire di caricare una roba poi viene così poi quando arriva così quando arriva poi ve lo metto come hai detto cambia la soggettazione sì è vero però è stata anche proprio brava quindi nel senso sti cazzi ha fatto il suo comunque ha fatto molto il suo secondo te qual è il ruolo di Bentancur? non sai inserirsi come mezzala non difende come un incontrista non è il piede di un regista è un ibrido strano dovrebbe specializzarsi eh però se allo stesso tempo magari hai gente specializzata poi fai fatica a ritagliarli del posto speri che il Real non passi? beh oh Dio diciamo che probabilmente anche in ottica campionato sarebbe meglio un Inter in Europa League perché un turno in più giochi il giovedì poi oh se il Real non dovesse passare sicuramente non sarebbe una cosa così tanto tremenda il problema è che qui secondo me alla fine andranno a passare è Real e Inter e il Gladbach che ha fatto praticamente tutto il giro in testa lo prende nel culo ma l'arbitro principale era femmina assistenti e quarto uomo maschi si fanno la doccia insieme? non penso non penso comunque mi piace che tra tutte le cose si vada a pensare alla doccia giustamente quindi ci sta Kino Mademirale è uscito per infortunio si per beh per infortunio più che altro sentiva un pochino tirare dato che era reduce da un problema magari appena ha sentito qualcosina l'hanno l'hanno cambiato per non rischiare dato che te lo potevi permettere e per sicurezza magari non ha niente o magari c'ha qualcosina questo però probabilmente lo scopriremo domani a meno che non abbiano già scritto qualcosa che in caso adesso ve lo posso anche proprio far vedere quindi intanto andiamo a cercare se magari Agresti ha scritto qualcosa no Agresti non ha scritto nulla non ha scritto nulla ancora quindi evidentemente ancora non si sa nulla come arbitrato la tizia? bene arbitrato bene Real e Monsengladbach fanno il biscotto non lo so non penso più che altro perché comunque bisogna anche pensare che va bene magari in caso di pareggio va fuori l'Inter che quello più che altro potrebbe riguardare noi però allo stesso tempo c'è il Real se vince passa da primo nel girone mentre invece se fa il biscotto passa da secondo con una buonissima probabilità di incontrare una squadra di un certo tipo agli ottavi quindi onestamente non so quanto convenga al Real eventualmente fare biscotto anche perché poi metti che prendi l'inculata sei fuori metti che fai il biscotto sei secondo sei vinci sei primo insomma fai fatica non lo so per più che altro il biscotto lo speriamo noi il Real non so quanto convenga in realtà secondo te chi prenderemo agli ottavi boh vediamo poi ancora molti gironi non sono chiusi quindi boh non gli idea secondo te questa Juve può dare fastidio al Barca boh sì magari fastidio sì però mi auguro possa dare più fastidio alle big in caso a febbraio quando magari le incontrerai proprio il Barcellona comunque secondo me è una partita che andrà presa molto con le pinze a prescindere perché tanto tra i problemi del Barcellona i problemi attuali in linea di massima della Juve una partita che conta non conta quindi sai effettivamente fai fatica poi anche in caso a valutarla questo lo vedremo poi vabbè tra sei giorni però sì perché no può mettere in difficoltà il Barcellona i quattro gol di Giroud ho visto tra l'altro il Chelsea stradominato il girone per passare da primi bisogna vincere 3-0 3-1 sì esatto quindi è un pochino tosta diciamo diciamo così un pochino tosta secondo te la Juve può ritrovare il Dybala 2017-2018 me lo auguro agli ottavi prendiamo il Manchester oddio forse perché adesso che posso vi faccio vedere qual è la situazione dei gironi di Champions poi ovvio manca ancora una giornata però alcuni sono decisi e alcuni invece sono ancora tutti da decidere allora classifica dovrebbero essere questi qua sì perfetto guardate qui ragazzi guardate qui che spettacolo allora qui praticamente è chiuso se Bayern Monaco primo questo lo sapevamo purtroppo tutti poi qua vedete ancora alla fine qui paradossalmente il Gladbach rischia di andare in Europa League quindi quale Manchester di due hai ragione hai ragione che te effettivamente è vero bisogna lasciare il beneficio del dubbio qua c'è un Manchester di sicuro c'è un Manchester qua di sicuro quindi un Manchester c'è però appunto qua il girone è certo è già deciso qua si farà molto molto bella effettivamente il girone dell'Atalanta con la prossima Ajax Atalanta è molto interessante Chelsea Siviglia con il Chelsea che penso sia passato da primo in pratica questo anche mai dire mai anche se la prossima dovrebbe essere proprio Lazio Bruges quindi dai in teoria anche qua i bastardi che siamo noi e poi qua vedete qua comunque ragazzi sono tutti e tre a nove nel senso qui con la prossima che è PSG Basak Shehir e Lipsia United se non sbaglio sì quindi qui va a capire chi esce e chi non esce va a capire qui come come si sistema la situazione colpirai con il tuo bacio della morte per i sorteggi e non lo so se ce la faccio a livello di tempistica se ci riesco molto volentieri non guasta mai anche se per quanto riguarda la Champions il bacio della morte ragazzi non serve quasi mai non non in Champions anche il bacio della morte non serve Lellone tra dieci minuti mi vuoi tra dieci minuti sì tra una decina di minuti viene a fare qualche chiacchiera ah dieci minuti non tra dieci minuti ok sarò pazzo ma per me è stato un bene pareggiare in campionato per vincere in Champions perché siamo la Juve e dobbiamo almeno provare ad arrivare primi e il problema è che bisogna provarci anche in campionato poi è vero è più lunga questo è ragione al Camp Nou vinciamo con gol al Camp Nou vinciamo con gol al volo di Bernardeschi al 94 ok perfetto poi sta arrivando Lellone quindi intanto preparo Uerebay Di Bali in Champions League scompare meglio Morata beh cazzo però ha fatto ha fatto un gol e mezzo almeno in Champions questo il problema è che sta scomparendo un pochino ovunque comunque se mi vedete così che se un attimo sminchiate perché ho aperto Uerebay appena entra Lello faccio la condivisione che ne pensi di Paolo Trequartista ragazzi se non l'ha mai utilizzato un motivo ci sarà anche perché poi non hai riserve là davanti la prima munizione della prima partita dell'arbitro in Champions League a chi poteva mai andare questa è una giusta considerazione giustissima a dirla dopo dieci minuti tra l'altro ne è che da dire che ha aspettato il 60 dopo dieci minuti bollato tra così in quanto è grosso è enorme e poi il 2002 c'è 18 anni poi questo magari era così da due anni due o tre anni questo a 15 anni era così è incredibile mi ricordi cosa abbiamo fatto nei gironi nel 2017 2015 no perché non mi ricordo ma erano anche due Juventus diverse mi sento di dire con quali canali di Youtube ti piacerebbe collaborare con questo guarda eccolo qui con lui mi piacerebbe molto collaborare fuggi con me sì e non ci collabori esatto allora ho avverato un tuo sogno hai avverato un mio grandissimo sogno sono entrato di corsa a dare un saluto ai tuoi followers intanto aspetta che io sto provando a fare qualche metto anche qualche filtro se riesco così cioè nel senso per filtro intendo green screen perché ho fatto tutto com'è che si chiama il green screen su chiave cromatica ok perfetto ok 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 infatti l'ho messa guardate qui ragazzi adesso se mi sistemo anche su mi sistemo in questo modo anche su streamlabs per Youtube e la fine eccoci qua perché Kuluseski fa solo smadonnare l'ellone no era era una domanda io la giro ma secondo me non è in forma mi hai scammato come al solito grazie boh in realtà ragazzi sto leggendo a fatica cioè leggete anche voi come scorre la chat faccio fatica a leggere 260 persone che scrivono no ma poi tipo quelli anche pigliati male mi hai scammato come al solito di boh dai sono uno dei pochi che cerca sempre di cagare tutti non cagate il cazzo con tutto bene però nel senso se ribionda ne avveravi due di sogni di Kino ha ragione beh che che mi dici sta partita e beh dai l'ellone c'è poco da parlare dai con tutto il bene poi io al primo tempo stavo smadonnardo però sì ma anche all'inizio del secondo quando magari c'è stato quel momento di blackout come era capitato anche nelle altre partite solo che stavolta per fortuna c'era anche Shesney quando doveva es beh non che purino contro il Benevento sia stata colpa sua anzi 30 secondi prima aveva fatto un miracolo comunque male la partita è cambiata quando è entrato Benardy schiore e tu mi cucineranno mai così no no ma guarda l'ho detto anch'io cioè l'ho detto alla fine l'ho scritto nel gruppo dei miei amici che guardiamo la Juve è entrato molto molto bene è entrato molto bene tanto Ramsey che era lui il problema che c'era guarda Chizora me lo ricordo benissimo quando si chiama quel terezzino mi sono fissato il suo nome scorrazzava tranquillamente nella fascia nostra a sinistra c'era il povero Alexandro Ramsey non rinculava mai tutte le situazioni pericolose sono arrivate da là aspetta aspetta non ti si sente non ti si sente ragazzi ti faccio così perché adesso si sentirà ma si sentirà un pochino male perché si sente tramite il microfono ecco però è così ho capito che non si sente per Dio lo scrivi un'altra volta giuro che ti banno figa ho capito mi sentono ora adesso tramite il microfono si sente un pochino così però si dovrebbe sentire sono basato per salutare per voi dopo che scappare devo fare gli auguri a mezzanotte alla mia ragazza devo essere il primo altrimenti sai che ti depenna dalla lista dei parenti no a parte tutto e la partita è cambiata quando è uscito Ramsey quando è uscito Ramsey è cambiata la partita perché lui doveva fare queste due cose folli doveva in fase di costruzione essere centrale e aiutare la manovra lato difensivo doveva scalare sul terezino che si chiamava Zicora che è un nome che mi sono chizzora chizzora quella bassa cross da quella parte proprio di chizzora stop di peto e tiri in porta tutte le situazioni sono nate da là è là che è stato il problema nostro perché poi è entrato Bernardeschi nel secondo tempo non abbiamo più subito nulla 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 e tra l'altro dai abbiamo visto anche l'Under 23 Dragusi io l'ho visto che bestia è enorme a parte secondo me quello là è una sciupa femmina può essere ah io pensavo stavessi parlando dell'Under 23 di oggi e ho visto anche quella io oggi non so che fare mentre lavoravo ho piazzato in tv su youtube c'era Eleven Sports Juve pregolettese Juve tra l'altro è vero mancano tre minuti a mezzanotte minchia ma oggi per me è una lunga notte io andrò a dormire alle due e mezza come minchia anche io mi sa che registro dopo gli anti-J che percentuale di possibilità date a questa Juve per vincere Champions barra campionato considerando lo stato attuale della squadra campionato io ti dico 20% perché va ripartito su tutte le altre squadre una possibilità una percentuale quindi Champions siamo proprio Champions 5 entusiasmo però no concordo la percentuale cresce da turno da turno a turno e a parità di condizione psicofisica secondo voi chi dovrebbe giocare con CR7 meglio una copia d'attacco con uno o due trequartisti che tornano o un tridente io sono per il tridente però il tridente non comprende Dybala o se lo comprende non comprende Morata cioè punta centrale o Dybala o Morata perché ragazzi difendo io l'avete visto già oggi con un giocatore un po' fuori posto cosa significa con Ramsey fuori posto che le occasioni da gol arrivano anche alla Dinamo di Chiem con il Bayern di Monaco perché pensarci no no lo so però dico perché andare a perché prevenire è meglio che curare altrimenti parleremo di Calipone post partita Calipone no Calipone no di estintore perché il Calipone è quello improvviso mi fa ridere che questa partita sostanzialmente era stata strutturata per far segnare Ronaldo e alla fine secondo me è stato quello che mi è piaciuto di meno no tra i tre sì è quello che mi è piaciuto di meno tra Chiesa Morata e Ronaldo sì è quello che mi è piaciuto di meno però non è stato quello che ha giocato peggio vabbè oggi dai oggi in pochi per dire hanno giocato male anzi tra l'altro a me mi ha completamente stupito Chiesa oggi a destra è tanta roba forte oggi oggi ha fatto veramente veramente molto bene Chiesa se in condizione è forte fisico straripante te ne sei accorto che partiva in ritardo e poi superava gli avversari per crossare quella è avere ottima gamba poi è una feruccia Chiesa due assist è un gol sì diciamo protagonista in tutti i tre i gol molto molto forte per voi di Bala verrà venduta a gennaio no non penso se non rinnovano però io ve lo metterò sul mercato che sia gennaio o giugno o rinnova o lo vengono non credo a gennaio perché fa fatica anche a comprare qualcuno devi prendere se vende di Bala però giugno giugno secondo me è una bella deadline per lui ah sì e quello è il momento del famoso bivio probabilmente comunque Lello non lo so è mezzanotte vedi tu io devo scappare mi spiace è stato bello finché durato no era più che altro anche per un attimino testare anche streamlabs perché nel senso dai penso che le streaming fatte così anche su youtube siano dai belline che riesci magari a far vedere anche delle robe sì sì piuttosto che fare la videochiamata è più figo rispetto che webcam e basta almeno dai era anche un modo un attimino per per settare e testare quindi si sta poi qualcosina c'è proprio lo scaricato tra l'uscita del video e l'inizio della stream quindi ho fatto proprio due robe di fretta ho messo però bene bene mi fa molto piacere che si veda che sei passato prossima volta mi auguro si sentirà anche meglio e c'è tempo per per settarlo meglio colpo adesso registri la carrellata sì fa un saluto all'amoro o fagli la pure anche da parte mia perché insomma glieli faccio glieli faccio adesso ragazzi che dire adesso faccio la carrellata di Zazzaroni che è la roba che conoscono tutti e poi voglio editare le reaction quindi l'è lunga mi sparo i cruciani sottofondo e faccio il lavoro la zonzara? sempre quotidianamente lascia perdere che ci sono i miei amici che non se ne perdono uno parlano solo di quello e io non capisco come un cazzo perché non la seguo quindi eh ma devi iniziare se inizi a cazzeggio cioè proprio a cazzeggio quando ti stai spostando la segui muori dalle riesate no non so che cos'è non so che cos'è bellissimo ragazzi io vi saluto un bacio chino alla tua community alla tua fanbase adesso adesso ti vedono quindi lo puoi fare anche te adesso c'è tutto perfetto un bacio a voi ragazzi che Romeo Agresti saluta un bacio un abbraccio alla tua fanbase che è sempre molto carina nei miei confronti sta sul cazzo a tutti oh raga io vi lascio ciao chino ciao belli oh eh si si adesso qui è sminchiato e rimane sminchiato mi dispiace però si si vedeva bene adesso l'audio va un pochino sistemato perché devi aggiungere delle cose su streamlabs però si vedeva eh cioè ci sta così dai anche un pochino più un pochino più carino anche chiami a mio più di ronni fate bene l'ellone se lo merita fate bene Morata a fine partita ha chiesto scusa a Pasqua dicendo che ha frainteso le sue parole ok cioè nel senso va bene va bene però mi fa strano considerando che a fine partita è stato espulso quindi la vedo parecchio difficile come l'hai visto meccanista sera a me piace da matti mi piace veramente tanto da matti meccanista io lo adoro però è anche poi ovviamente soggettivo proprio un meme vivente di Betancur invece quest'anno secondo me avrà molta più difficoltà alla fine l'audio non andava neanche male sì però devo sistemare qualcosa su streamlabs devo mettere l'audio anche del pc e non farlo sentire tramite microfono però questo più che altro era un in test era un test per per provare un attimino tutto contro il barcelona secondo te Pirlo potrebbe schierare un McKennie Rabiot Arthur a centrocampo o meglio un Bentancur Ramsey per dare equilibrio ma secondo me guarda che McKennie Rabiot Arthur non è male quarto attaccante chi prendere non mi idea non mi ho veramente idea per gennaio secondo te sarebbe meglio prendere un Isco un altro giocatore cazzo Isco è diventato un bel iguaine Isco bo Isco non lo so è un bel boiler dell'acqua calda ah ha chiesto a fine di questa partita ha a posto sperando che con il ricorso ciuccino una giornata ha fatto bene la leccata di culo non guasta mai ha fatto bene di varie tre quarti al posto di Ramsey avrebbe fatto bene oggi il problema è che non l'abbiamo visto ma la pseudo abbracciatona di Bonucci ne vogliamo parlare a chi non lo so non ci faccio molto caso a queste robe non so chi ha abbracciato chi non ha abbracciato non mi idea Di Bala non ha giocato e si è visto vabbè però ogni tanto lo inquadravano erano contenti era contento in panchina quindi ci sta con un Luiz Alberto o non lui uno come lui sarebbe la storia ah beh cazzo Luiz Alberto è un signor centrocampista micidiale Luiz Alberto c'è poco da dire un giocatore come Luiz Alberto non c'è veramente nulla da dire Cele ciao anche qui ciao Cele secondo te Ken sarebbe servito alla Juve sì e aveva fatto tra l'altro anche di tutto per riportarlo a Torino solo che ormai la storia la sapete alla Juve o con obbligo di riscatto o a titolo definitivo al PSG andava bene anche prestito secco abbracciato un avversario in area di rigore ah sì 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 l'ho visto Bonucci ragazzi è particolare Bonucci è molto particolare quello che manca un giocatore di esperienza a centrocampo un po' come Borca Valero alla viola ai tempi d'oro sì diciamo dai si potevano fare esempi migliori però è stato capito l'esempio è stato chiaro è stato molto chiaro cosa le pezzi di Kuluzeski è ancora lo devo ben inquadrare in realtà come un pochino tutti lo devo abbastanza inquadrare ancora il Kulu bisogna ancora un attimino capire se ci è ci fa non si sa non si sa però in linea di massima mi piace di Bala per Joe Felix lo faresti affantamercato ragazzi meglio Pirlo ti manca Allegri non si possono comparare non si possono comparare ancora spero di non sentire la mancanza onestamente di di Allegri in futuro poi non lo so che cosa succederà ecco che ne pensi dell'arbitro donna arbitrato molto bene chi vincerà la Champions secondo me è il Bayern è quella che secondo me continua ad essere la più forte hai sentito hai sentito le voci di Rovella la Juve sì ma non lo conosco molto bene quindi finisce così Icardi fa panchina Ken esatto ha uno dato in prestito secco è quella la cosa bella dopo che un mese no qualche mese prima hai pagato Icardi 50 milioni però alla fine il PSG è il PSG abbiamo una squadra giovane con gamba il resto arriverà speriamo cosa ne pensi del re cristiano non penso ci sia nulla da dire secondo me in fase di costruzione passiamo troppe volte alla palla indietro ci ho fatto caso anch'io è vero chiesa migliore in campo oggi molto probabilmente sì prova a scriverlo un'ultima volta poi smetto come detto in telecronaca troppi giocatori chiamano la stessa mattonella destra avanzata chiesa di vale culo infatti non a caso in quell'area ha sempre giocato solamente uno magari chiesa era a sinistra a destra c'era o Kuluseschi o Dybala più che a destra davanti o c'era Morata Ronaldo con Kuluseschi a destra quelli sono problemi che da un pochino che si vedono oggi è un giorno storico per la Juve il sistema aperto alle quote è rosa è vero secondo te nel derby di sabato vinciamo spero perché cazzo bisogna vincere in campionato ormai bisogna vincere in campionato non c'è niente da fare l'assurdo in campionato è che siamo la miglior difesa insieme al Verone siamo comunque a sei punti dal Milan sì perché segni poco bisogna anche considerare che tre di quei gol nella casella gol fatti in realtà tu non hai mai fatto tra l'altro quindi bisogna considerare anche questo segni poco tanto l'abbiamo anche visto o magari prendi pochi gol ma nelle partite dove prendi pochi gol ne fai pochi e di conseguenza pareggi quindi è così purtroppo però è vero siamo la migliore difesa domenica nel derby ci sarà anche la sfida tra maestri sabato non non confonderti che magari sei convinto te la vai a perdere sabato alle 6 dovrebbe essere bell'orario di merda tra l'altro bell'orario di merda tra l'altro sì pensi che un Chelsea possa riuscire a vincere la Champions la vedo difficile quest'anno oddio a parte che quest'anno è un pochino imprevedibile tutto è costa bega del covid del giocare ogni tre giorni quindi è anche tutto molto variabile però non penso cioè ci sono molte squadre decisamente più attrezzate del Chelsea anche se ovviamente mai dire mai credi alla rimonta in campionato quest'anno beh dai rimonta sono 6 punti a 30 giornate dalla fine direi che ci sono ancora tanti punti in palio però insomma devi iniziare appunto a vincere e a trovare una sorta di quadra ecco quello senza ombra di dubbio a centrocampo troppo che non verticalizzano già stato detto quali saranno le squadre che faranno bene in Champions secondo me le solite a grandi linee qual'è stata la differenza tra oggi e Benevento che oggi abbiamo concretizzato e chiuso la partita con il Benevento ci siamo mangiati gol poi ci hanno ancora sì oggi più che altro non c'hanno neanche pulgato ecco perché qualche debacle l'abbiamo avuta solo che Cesni si è sempre fatto trovare pronto poi alla fine si è andato anche a chiuderla pochi gol subiti ma pesanti ecco l'esempio è perfetto effettivamente subito pochi gol però quei pochi subiti sono stati molto pesanti voglia ora voglio un centrocampista che segni e lo vogliamo un pochino tutti che ne pensi di Silvestre il portiere del Verona è molto molto bravo potrebbe essere il nuovo Buffon no Aperl no a 30 anni nonostante possa sembrare impossibile perché effettivamente non li dimostra cazzo Silvestri ha 29 anni cioè lo compreresti a 30 e quindi insomma no però ottimo portiere veramente ottimo portiere Silvestri ti è piaciuto il giocatore al posto di Demiral Dragusin sì mi è piaciuto anche se ovviamente è entrato in un contesto molto facile non è stato mai particolarmente impegnato gli hanno fatto solamente passaggi semplici e ha fatto passaggi semplici però insomma per prendere confidenza butta via secondo te è possibile che Ronaldo chiuda la carriera alla Juve può essere però non lo so secondo me torna poi in madrepatria mia supposizione questo ovviamente totalmente a caso ci serve un grande centrocampista chi penseresti beh a War mi sembra appunto un buon compromesso ho visto la solita squadra timida l'avversario era davvero modesto contro una squadra vera in Champions è davvero brutta beh intanto oggi abbiamo vinto 3-0 già che ci stiamo disperando ultimamente per oltre che brutte partite risultati che non arrivano una volta che vinciamo 3-0 non disperiamoci avremo mode e maniera probabilmente tra 6 giorni quindi nel senso perché anticipare va bene così secondo te c'è possibilità di vedere Ronaldo Morata di bala non penso più che altro anche perché poi non hai riserve là davanti quindi buttarli tutti e tre così non lo so onestamente non lo so non lo so con la guerra gennaio per te si passerebbe al centrocampo a 3 in tal caso come si gestirebbero gli esterni guarda risposta molto paraculo non lo prenderei a gennaio quindi secondo me si risolve tutto molto facilmente però in caso è un bel interrogativo quello senza non lo so poi non lo so va a capire che cazzo passa nella testa Pirlo in pochi secondo me lo stanno capendo probabilmente neanche lui lo sa quindi scopriremo tutto piano piano tra così non è male no ma non sarà mai i livelli del fenomeno fra botta concordo secondo te è più probabile un gol del Berna o che vinciamo 3 a 0 al Camp Nou cazzo vincere 3 a 0 al Camp Nou con un gol decisivo di Berna tanta roba Alaba può arrivare a gennaio o no neanche a giugno vuole 15 milioni ragazzi non ce la faremo non ce la faremo mai è molto dura 15 milioni anche col decreto crescita su una barca di soldi uguale molto difficile Awar credo abbia rifiutato la Juve ma in realtà credi male anzi anzi Awar ha sempre abbastanza strizzato l'occhio quest'estate sembrava molto vicino all'addio direzione Arsenal ma alla fine non è andato e anzi Awar no non ha rifiutato la Juve e anche il presidente del Lione in ottimi rapporti con la Juve ti è piaciuto McKinney si l'ho detto prima anche ma ieri il gol del Monaco era da annullare non lo so perché ho visto il Gladbach e ho visto Gladbach Inter quindi non mi idea non so neanche che tipo di gol sia stato annullato o se è stato annullato un gol quindi non lo so veramente se facciamo 3 a 0 al Camp Nou esco le mutande in piazza ci sta un sogno erotico Barcellona Juve 3 0 a 3 tripletta di Ronaldo ci sta chi sceglieresti tra Ronaldo il fenomeno alla massima forma oppure CR7 alla massima forma CR7 perché so che magari posso puntare su di lui per più anni perché Awar e Loca no Loca perché secondo me chiedevano troppo soprattutto in quel in quel preciso periodo e Awar dopo una volta finito il mercato sia di marzio che a Gresti hanno detto guardate la Juve aveva l'accordo con Chiesa e con Awar hanno fatto scegliere a Pirlo e ha scelto Chiesa avevano praticamente lo stesso tipo d'accordo sia con Leone che con la Fiorentina e invece poi è stato chiuso per Chiesa questo quantomeno è quello che avevano detto però considerando che appunto Awar all'Arsenal non è andato ed anzi sembra anche abbastanza in rottura con Leone magari mi auguro ci possa essere la possibilità Awar non è nulla di che meglio Loca tutta la vita però adesso con tutto il bene Awar nulla di che uno che da qualche anno che giochi in Champions in Europa e tutta la vita meglio Locatelli uno che in Europa non ha mai giocato ha fatto una stagione buona al Sassuolo mi sembra sono anche due ruoli un pochino diversi quindi andrei coi piedi di piombo con certe affermazioni più che altro poiché a livello soggettivo ti possa piacere di più lecito però io personalmente tra Awar e Locatelli non avrei il minimo dubbio su chi prendere considerando poi che si parla anche praticamente della stessa cifra però appunto il mondo è bello perché vario ognuno ha i propri gusti e concordo Pogba continua a fare panchina allo United magari alla Juve ed è palesemente scontento secondo te potrà essere la volta buona che torna alla Juve per giugno anche lì dipende molto dalle richieste che ti faranno sia lui che lo United perché si parla sempre di cifre molto 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 importanti quindi non lo so secondo me a livello proprio economico la prossima sessione di mercato sarà ancora peggiore di questa quindi non ne ho veramente idea non ne ho veramente idea su su come magari con qualche scambio quello certo quello è vero quello è sempre valido però non lo so la vedo molto difficile Kino per passare primi dobbiamo fare 3 a 0 o 3 a 1 però si devi vincere con 3 gol subendone massimo 1 al Camp Nou ti immagini se avessimo preso Alland quando ne eravamo vicini sì sarebbe molto molto figo e avrebbe fatto meglio di Morata secondo te non lo so questo ovviamente non lo so non lo posso sapere questo non lo so però sarebbe stato molto molto figo ma lui se Alberto per il centrocampo visto che Elita è collotito magari il problema però sai che nel momento in cui magari ti viene a bussare alla porta la Juve a voglia come alzi il prezzo non lo so ti aspettavi un Morata così decisivo no mai 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 nella vita non lo sarei aspettato mai cazzo tra l'altro è già al suo record di gol in Champions League dopo dopo solo tra virgolette cinque giornate assurdo senza considerare poi tutti i mille mila gol che gli hanno annullato altrivetti sarebbe già ad un numero spaventoso di di gol mai me lo sarei aspettato guarda ma secondo me anche quelli dell'atletico si stanno mangiando il cazzo comunque ragazzuoli io vado a preparare il video per domani che Dio me la mandi buona grazie mille per la compagnia statemi bene ci sentiamo domani ci sentiamo